La collaborazione tra Fincons e Pirelli è davvero di lunga data, da più di dieci anni e precedente al mio arrivo in azienda. Io a mia volta conosco Fincons da moltissimi anni e ho avuto modo di collaborare con loro anche nelle altre realtà in cui ho svolto il mio ruolo da CIO. Inizialmente la collaborazione è nata su alcuni processi verticali e su alcune piattaforme di RCS, sfruttando le competenze di Fincons. Questo rapporto ormai decennale è poi cresciuto nel tempo e si è sviluppato soprattutto nell'ambito digitale. La collaborazione con Fincons dura da circa dieci anni, è iniziata nella mia precedente esperienza in una grande utility italiana, dove ho avuto la fortuna di incontrare e incrociare l'ingegner Moretti e il suo team. La collaborazione con Fincons dura dal 2017, quando subito dopo il mio insediamento in Associated Press avevamo bisogno di specifiche competenze in ambito media. Spesso l'ingegner Moretti e i miei collaboratori, che ancora oggi lavorano nella struttura delle tecnologie di Mediaset, mi ricordano esperienze e aneddoti di quella metà degli anni 90 che è stato un momento straordinario sia per il successo di Mediaset che per la crescita di Fincons. La partnership con Fincons si è estesa nel tempo, andando a ricoprire aree sempre più strategiche ed importanti del business di Pirelli. Fincons è diventato un partner strategico fondamentale per RCS. Abbiamo lavorato insieme su tutta la trasformazione digitale del gruppo. La scelta di Fincons è stata una combinazione di eccellenza tecnica e un buon compagno del nostro business. La scelta di Fincons è nata dalla mia esperienza precedente in cui avevo notato come Fincons, oltre ad offrire tradizionali servizi IT, aveva una specifica competenza nel mondo media, video, broadcasting, streaming. Ci sono caratteristiche che ritroviamo di affidabilità, di competenza, di flessibilità e un orientamento alla soddisfazione del cliente che guida tutte le risorse di Fincons. Sono molto soddisfatta con il approccio flessibile e agile che Fincons ha dimostrato ai nostri necessari nostri business. Anche per i costi, il lavoro con Fincons è stato molto beneficioso. Lasciatemi poi spendere due parole sulle persone di Fincons che hanno lavorato a stretto contatto con le persone di RCS. Abbiamo trovato professionalità, voglia di fare e assoluta disponibilità, tutte qualità che abbiamo apprezzato molto. Cosa mi aspetto per il futuro della partnership con Fincons è continuare la strada che abbiamo iniziato un po' di anni fa, continuare nella ricerca di sfide innovative che possono portare dei benefici, diciamo, non solo all'azienda per la quale lavoro, ma perché no anche oltre. Per il futuro mi aspetto un'evoluzione verso un supporto di advisory strategica. Mi aspetto molto, soprattutto perché Fincons adesso è realmente un'azienda internazionale con una presenza solida anche negli Stati Uniti. Collaborare con Fincons è stato un piacere e un beneficio. Mi aspettavo che continueremo a lavorare del stesso modo, dove Fincons mangia innovazione, continuano a sbagliare del nostro negozio, a sapere del nostro negozio e a fare un grande lavoro. Pirelli sta affrontando un percorso di cambiamento e di trasformazione digitale importante. Ci aspettiamo di avere Fincons a fianco in questo percorso, ci aspettiamo la loro competenza e ci aspettiamo di lavorare insieme con loro a Bari dove entrambi abbiamo un importante centro di eccellenza. I tre aggettivi che descrivono Fincons sono autorevole, affidabile, flessibile. Innovativa, disponibile e agile. Fincons per me è un'azienda fatta di persone estremamente appassionate per quello che fanno, coinvolte dall'inizio alla fine di qualsiasi progetto, ma soprattutto estremamente innovative. Fincons è competente, veloce e familiare.